buongiorno e ben ritrovati a voi tutti cari amici fan da sottoscritto nicola de lucia in questo video ultimo momentane prima ne arriverà qualcun altro più tardi parliamo della nostra adriati cavallo e la vigna gruppo trani che ieri si è trovata di fronte alla capolista ovvero la ling campus università castellammare di stabia napoli e purtroppo abbiamo perso per 3 7 a 0 con i parziali 15 25 17 25 22 25 la classifica al momento vede la nostra squadra tranese sesta 24 punti diciamo che rispetto alla zona rossa siamo a più 10 quindi diciamo per il momento possiamo stare tranquilli per il momento comunque fatemi dare l'occhiata contro chi giochiamo la settimana prossima la settimana prossima sarà la volta della sfida contro la molinari volley napoli il 15 febbraio molinari volle napoli che è al nono posto con 16 punti quindi una vittoria non è impossibile diciamo metà e metà l'importante che le nostre ragazze giocano al meglio come fanno sempre quindi chiude il collegamento dicendo che tra la la vigna gruppa adriati cavallo e trani lingus campus castellammare di stabia napoli finisce in vapore del napoli per 3 7 a 0 ciao a tutti ci vediamo più tardi ciao